Signori, questo Napoli può vincere lo scudetto, diciamocelo chiaramente. Perché? Per una serie di motivi. Innanzitutto perché vediamo un Napoli che cresce di domenica in domenica e di giovedì in domenica. Signori, il Napoli è migliorato. Dalla prima partita, quel disastro di Verona. Poi due partite di orgoglio, ma brutte come gioco. Napoli era in difficoltà, la difesa ballava. Poi abbiamo vinto a Cagliari con determinazione, ma anche lì la difesa concedeva troppe occasioni. Poi a Torino abbiamo incominciato a ingranare veramente a livello di controllo della partita di una difesa che c'è a Torino, che l'hanno fatta un utile solamente. E stasera il Monza cosa ha fatto? Ha fatto niente. Signori, neanche un tiro, neanche un'occasione, a meno che quei cinque minuti che ho perso il collegamento abbiano fatto qualche cosa, ma non credo. Monza ha sicuramente dimesso, Nesta credo che se ne andrà. Giustamente questo potrebbe svalutare un pochettino la partita, no, però il Napoli è sceso in campo. Ecco, mentre con giovedì abbiamo visto quasi una grinta, partito con una grinta, diciamo, selvaggia. Qui invece abbiamo visto una decisione per partiti, con decisione, senza buttarsi a capofitto, ma con decisione, con logica, ma con determinazione. Tutta la partita hanno fatto la stessa cosa, non ci sono stati dei cali. Questa è la caratteristica che ti fa vedere che stessa squadra si sta saldando, si sta veramente acquistando proprio di volta in volta una fisionomia di squadrone. Signori, questo sta per diventare uno squadrone. Sì, 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 e ora vediamo. E teniamo presente che, se vogliamo, è ancora la stessa squadra. E quindi proprio con giocatori galvanizzati, insomma, sì, perché è vero che ha giocato, buongiorno in difesa, è vero che ci sta McTominay, però, insomma, alla fine abbiamo. Il Politano probabilmente il migliore, l'asse destra, insomma, con Di Lorenzo, che è ritornato a buoni livelli, Anghissà, insomma, e Lobotka, che sono tornati a buoni livelli. Insomma, signori, qua c'è una squadra che domina, oggi, che non ha paura. Mentre le prime partite, insomma, parliamoci chiaramente, sbandava. Signori, sbandava. Sbandava anche col Parma, non ne parliamo, col Bologna, ma anche col Parma non ne parliamo. E addirittura col Caglioli, come abbiamo visto, la traversa, cose, quante occasioni. Però, ecco, con quelle partite ha vinto, con la voglia, con la determinazione, che Conte ha trasmesso l'oro, cari signori. La Juventus potevamo vincere, ripeto, perché onestamente avevamo fatto meglio di loro. Però stasera è la migliore partita. Secondo me, secondo questa logica, questa è la migliore partita del Napoli. Perché? Perché niente. Una partita proprio che è di controllo assoluto del match. Politano, dicevo, probabilmente il migliore in campo, ma tutti quanti, tutti quanti hanno giocato. Questa figura particolare di McTominay che vaga per il campo con grossi inserimenti in attacco. Lui purtroppo è un gagnone, quindi ha fatto per esempio quel bellissimo colpo di testa che ha sfiorato il goal. E un paio di volte si è trovato, si è trovato al tu per tu con il goal e ha perso del tempo. Ecco, su quell'azione per esempio di Quaraschkele, tu sai che sei più lento necessariamente, no? Perché lo sei, perché devi esserlo per forza uno di due metri nel momento in cui devi gestire il pallone un attimo più lento dell'altro. Quindi c'era l'occasione di tirare di prima, direttamente a porto. Ma comunque è uno che farà parecchi gol, perché poi tira, poi fai, eccetera. Onestamente, comunque quello che nasce, quello che si vede è proprio una squadra rinata dal punto di vista della volontà, ma proprio in ordine. Oggi si vedeva una squadra ordinata. Questo sta lavorando tutta la settimana allacremente, mentre gli altri, tra Champions di qua e Champions di là, si sfacchino e sfacchino e non capiscono più niente. Ecco perché secondo me il Napoli è veramente il favorito. È chiaro che sulla carta l'Inter sarebbe comunque più forte, c'ha praticamente due squadroni, uno in panchina e uno in panchina, però onestamente questa Inter già si è deconcentrata quando doveva giocare con il Manchester City e ha perso i punti. Anche oggi, cioè anche con tutte le partite che dovrà fare, cari miei, l'Inter non potrà reggere. Mentre invece il Napoli fa vedere da questa sera come lui, ogni partita sarà concentrata, perché non ha da fare niente. Tutta la settimana sarà lì a fare queste cose. Questi si concentrano per ogni partita, Coppa Italia e Campionato. E così sarà. Quindi noi difficilmente vedremo un Napoli che non è catechizzato, che non è concentrato al 100% sulla partita. Le altre squadre invece sì, Napoli sì, Napoli no, c'è la Champions, la partita. Quindi il Napoli ha tutte le possibilità di vincere lo Scudetto. E ripeto, ancora i nuovi, c'è solo McTominay che gioca ed è chiaramente un giocatore importante. Anche se Mazzocchi, per la verità, è stato sempre criticato io stesso, però io quando vedo che lo vedo entrare, zitto, zitto, si mette la cagava sotto, picchi, picchi e fa così. Politano, essendo praticamente da un anno e mezzo il migliore in campo, che l'anno scorso era l'unico che aveva giocato, gli altri non avevano giocato, e quest'anno è quasi sempre il migliore. È chiaro che Neres, ed è un peccato, viene penalizzato. Però certamente tu, il lavoraccio che ha fatto Politano oggi è stato straordinario, è in difesa, è in attacco. Un gran gol perché lui ha chiesto lo scambio con Lukaku, però io pensavo che bello scambio. Poi sono andato a rivedere, in realtà, Lukaku era stato anticipato dal difensore e quindi praticamente l'assist perfetto gliel'ha fatto il difensore. Lui è entrato e ha fatto questo gran gol e l'ha dedicato alla moglie, è stata mezz'ora a baciare. Quaraschelia, dopo aver segnato dalla moglie di Politano, è andato a vedere e baciava la stessa cosa. Sono fatti loro comunque. Comunque, perché poi Quaraschelia, che era stato abbastanza un po' fuori dal gioco, fino al gol, e anzi era un po' nervoso, aveva preso pure l'ammunizione, e a un certo punto Quaraschelia ha segnato, proprio su quell'azione, mi pare, di McTominic che non è riuscito a... ecco, un'altra, non quella su Passaggio Quaraschelia, ma c'è stata un'azione di McTominic che ha dirato, è rimpallato lì, il giocatore ha rimpallato e ha segnato. Insomma, signori, questo è il Napoli, il Napoli onestamente da scudetto, da scudetto inteso come campionato di quest'anno. La Champions League è che quest'anno è bella, ma è praticamente una ammazza squadroni, perché i squadroni saranno distratti continuamente, è una bella, è una bella Champions, signori cari, il Napoli deve approfittare e sono convinto che ne approfitterà.